Giorgio Agamben, il filosofo Giorgio Agamben e il decreto inumano, il filosofo Giorgio Agamben di certo non ha letto la mia storia della filosofia, eccola qua la mia storia della filosofia. È vero, caro filosofo Giorgio Agamben, che tu non l'hai letta la mia storia della filosofia? No, Giorgio Agamben non ha letto la mia storia della filosofia, forse non ha ancora letto la mia ultima opera, Il marinaio delle Antille, che è arrivata ora nelle librerie. Ora qua c'è la stella di Davide, la croce unginata, sì perché il filosofo Giorgio Agamben tra l'altro fa riferimento pure a Hitler e in questa mia opera, in questo mio romanzo, per l'appunto si parla del nazifascismo, perché è un romanzo thriller ambientato nel terzo Reich. Giorgio Agamben definisce il Green Pass un decreto inumano. È stato un intervento recentissimo, non è quello del filosofo Giorgio Agamben, mi pare che sia un intervento parlamentare del 7 dicembre 2021, quindi un intervento fresco fresco. Dice che non si capisce tutto questo pandemonio di vaccinazioni per un virus che causa solo lo 0,2% di mortalità. Io non lo so se questo 0,2% di mortalità del virus Covid-19 sia vero o falso. Io so soltanto che dal gennaio 2020 ad oggi i reparti di terapia intensiva, non parlo dei morti, i reparti di terapia intensiva sono stati e stanno ritornando pieni zeppi così di persone colpite dal virus Covid-19. Allora egli parla della libertà il filosofo Giorgio Agamben e mi sorprende tanto che il discorso sulla libertà non faccia riferimento a questa mia opera filosofica. Quale libertà Giorgio Agamben? Quale libertà abbiamo noi? Ma se siamo tutti prigionieri del nostro DNA, del nostro codice genetico, il codice genetico è il nostro tiranno. Dentro il nostro codice genetico ci stanno i nostri due padroni. Uno è l'istinto di sopravvivenza che ci spinge inesorabilmente a mangiare, colazione, pranzo e cena, ci spinge inesorabilmente a lavorare, a sudare, a tribolare, per comprare, per procurarci il denaro, per andare a fare la spesa al supermarket. Poi c'è l'altro padrone che è l'istinto di perpetuazione della specie, che ci spinge inesorabilmente a procreare. Tant'è vero che dai due soli esseri umani creati da Overlord, Adamo e Deva, con l'ordine crescete, moltiplicatevi, ora siamo 8 miliardi, noi stiamo andando verso i 9, i 10 miliardi di abitanti. Quale libertà abbiamo noi? Giorgio Agamben. Vorrei ricordare a Giorgio Agamben, l'apologo kantiano, Immanuel Kant, l'apologo kantiano della colomba. Immanuel Kant immagina una colomba che vola nell'aria, vola, la colomba pensa, ah, ah, dice la colomba, c'è quest'aria che rallenta, rallenta il mio volo. Se non ci fosse l'aria che rallenta il mio volo io potrei volare molto più velocemente. E allora conclude il filosofo Kant, la colomba non sa che l'aria che rallenta il suo volo è lo stesso elemento che consente alla colomba di volare. E la libertà. Ma già Martin Dudero scrisse il De Servo Arbitrio. De Servo Arbitrio. Attribuendolo alla divinità. Non sbagliava, eh, Martin Dudero parlando di De Servo Arbitrio. Non sbagliava. Sbagliava soltanto nell'attribuirlo a Dio. De Servo Arbitrio va attribuito alla natura, all'evoluzione della specie. Noi siamo dei servi, siamo tutti schiavi. La nostra libertà è una cosa molto piccola. E per quanto concerne Hitler, quando Hitler faceva le sue leggi, mica c'erano le manifestazioni di piazza contro le leggi di Hitler. Io vedo che Giorgio Agamben può liberamente parlare contro quello che gli chiama l'inumano decreto. Poi c'è una cosa che forse Giorgio Agamben non sa, per cui lo devo informare io, Serafino Massoni, io autore di questo romanzo storico ambientato nel Terzo Reich. Il Green Pass mica appartiene al Ministero della Salute, eh, Giorgio Agamben. Il Green Pass appartiene al Ministero dell'economia. Perché con il Green Pass si può controllare l'evasione fiscale, si può controllare il lavoro nero. Infatti tantissimi Novax, sono anche evasori fiscali, tantissimi che fanno anche il lavoro nero. Giorgio Agamben c'è un'evasione fiscale in Italia che è, non dico pari, ma quasi pari al nostro prodotto interno lordo. Probabilmente il Green Pass, piano piano piano, approfittando per l'appunto di questa circostanza, questa pandemia, verrà esteso da tutto il mondo perché in tutto il mondo c'è l'evasione fiscale, ci sono anche i paradisi fiscali. Giorgio Agamben, caro, caro Giorgio Agamben, il Green Pass non appartiene al Ministero delle Finanze. Il Green Pass non appartiene al Ministero della Salute, il Green Pass appartiene al Ministero delle Finanze e non ha soltanto l'obiettivo di controllare il virus Covid-19, ma c'è anche l'obiettivo di scovare gli evasori fiscali e di scovare pure chi fa il lavoro nero. Va bene, Giorgio Agamben, caro Giorgio Agamben, guarda, se tu mi farai pervenire il tuo preciso recapito postale, io ti farò pervenire una copia di questo mio ultimo romanzo, Il Marinaio delle Antille, vedi che qua nella copertina c'è da una parte la stella di David e dall'altra la croce uncinata. Ok Giorgio Agamben, a te, ah devo ringraziare un amico che mi ha informato di questa situazione, non ne faccio il nome per correttezza professionale, per teotologia, ecco qua Giorgio Agamben, capito Giorgio Agamben? Fammi pervenire il tuo preciso recapito postale ed io ti farò pervenire a mie complete spese una copia di questo romanzo ambientato nel Terzo Reich. Va bene Giorgio Agamben e poi mi raccomando e ti devi leggere la mia storia della filosofia eh. A te Giorgio Agamben e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.